Ups, tutti, 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 miei cari upsini e upsine, come state? Fatemelo sapere in un commentino, qua sotto. Spero però, bene come sembra ovviamente, io spero passiate dei giorni, delle settimane, bene, senza troppi impegni, senza essere troppo stressati. Sì, oggi sono qui perché avevo voglia, vi giuro, di fare un altro video incentrato sui mouth sounds, fatti di diversi tipi, perché ossia questo rotolino, ho preso però anche il pennello per questo lato qua, ho preso i cucchiai, ho preso anche questo farino qua, quindi, non lo so, oggi avevo voglia di fare un po' di mouth sounds, quindi, sono qui, ma mi raccomando, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e preparatevi ad ascoltarli, se però questo genere di video, quindi mouth sounds, non è, come dire, il tuo preferito, ci sono tantissimi altri video e shorts sul mio canale, che puoi guardarti, ma da quel che so, vi piacciono? Quindi, sperando di non avere le labbra secche o la cola secca, possiamo provare ad iniziare, molto tranquillamente, facciamo tutto. Sì, spero, 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 spero. Sì, spero, 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 spero. Mi raccomando, dopo che facciamo un po' di mouth sounds, è necessario prendersi una pausa per respirare. Ma, iniziamo anche a usare qualche occhettino. ... ... ... ... Sì, sì, sì. ecco, ecco, ecco molto interessanti da fare questo cosino mi fa un po' solliti con le labbra un po' no buono ok dai, di questo ok ma voi preferite dei mouth sounds un po' più intensi tipo quelli che sto facendo oppure dei mouth sounds molto più soft fatti più piano tipo questo genere io dipende, in realtà dipende da creator in creator perché su alcuni lo preferisco un po' più veloce su altri invece mi rilassa proprio se lo fanno lento 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 per esempio io adoro ovviamente quelli di Nanu ASMR nonostante lei in realtà in passato non li aveva mai fatti perché sembrava una cosa un po' strana però adoro anche per esempio quelli di Easy ASMR mi sembra il ragazzo che fa vedere solo diciamo dal naso in giù lui ha fatto alcuni video di soft mouth sounds e quelli vi giuro mi hanno steso ci sono la fine del mondo come questo a parte che io ho sempre la sensazione del fatto che stanotte i capelli non vogliono collaborare a parte che ci sono Un'altra cosa che vi volevo dire e quindi solo chi è arrivato a questo punto del video La può sapere, la potrà sapere, è che ho preso la patente Non ci credo neanche io, però ho preso la patente L'ho presa Allora, devo fare un attimo un calcolo Voi guarderete questo video il 17 Giusto, quindi oggi per voi è il 17 ottobre Io l'ho presa il 9 Il 9 ottobre ho fatto l'esame E l'ho presa Infatti sono molto molto contento Diciamo, l'esaminatore non era la più bella persona che ci potesse essere E' stato molto antipatico E si è lamentato di tutto Però me l'ha data Perciò io non gli dico nulla Quindi solo grazie per avermela data Perciò io non gli dico Perciò io non gli dico Perciò io non gli dico lavorare, vabbè, dovrei andarmeli un po' a tagliare, un pochino, sì, solo che ragazzi io non è che ho paura dei parocchieri, perché non ho paura dei parocchieri, però, cioè sapete quando magari una persona ha paura di andare dal dentista, ma non perché magari il dentista gli fa paura, vabbè, non è un luogo che gli piace, ecco, io uguale, ma con i parocchieri, sarà perché non ne ho ancora trovato uno di cui, tra virgolette, mi posso fidare, quindi ho sempre paura che facciano cose che non devono fare, e per questo se posso posticipare l'andare dal parocchiere lo faccio sempre, però non si può posticipare sempre, quindi devo trovare coraggio e andarci. scusate no è no è ok dai se non vi dispiace io direi cu cu adesso tocca a voi, quindi iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, dai che siamo vicini ai 3000 iscritti che potrebbero sembrare pochi, magari lo sono anche in confronto a altri ASMR artist con numeri enormi, però secondo me sono comunque un traguardo interessante, fatemi sapere cosa ne pensate. quindi iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e se avete un po' di tempo sempre e volete anche lasciare un commentino, fatelo, va bene? e il video di oggi finisce qui, se però tu, voi volete restare ancora insieme a me come ho detto a inizio video potete andare sul mio canale a vedere video e shorts anche delle settimane precedenti se ve li siete persi. qui io adesso ti mando un grande bacio e buonanotte Buona notte